colazione qualcuno mi ha detto una marbare di pago qua di pago là ma se la risa di pagare il bar sempre sempre a fare lo spa fratellino del mio cuore super smash rambondà un buongiorno buon sabato a tutti siamo venuti a ritirare un'altra cosetta mancante per la magica televisione ti chiedo una gentilezza siccome è un mio amico da un anno e mezzo ed è un mio amico un amico vero fratellino e porterà dei contenuti a settembre secondo me non è indifferente io ti chiedo di seguire il gladiatore fratello il gladiatore romano oltre che un amico è un personaggio veramente super smash rambondà dagli tutti a seguire il gladiatore forza chi non lo segue si estragna dalla lotta volevo rispondere a uno che mi ha insultato con il profilo suo proprio volevo dire che è precisamente una cosa le due scuse non mi servono perché quello che mi ha detto non te lo perdonerò mai già tempo fa mi avevi scritto mi ha insultato mia madre e ha detto pure che tappi col cane mio io ti dico una cosa ti giuro io sono l'uomo più tranquillo che ci sta ma queste due parole io non te le non te le perdonerò mai per nessun motivo al mondo prego per me che io non ti prendo perché se ti prendo ti faccio impiangere le parole che tu hai detto ti do la mia parola d'onore perché tu non c'hai nessun diritto di insultare le persone di offendere le famiglie prega a dio che io non ti prendo mai tu devi pregare questo e mo ti blocco pure perché mo ti blocco proprio e prega sempre che io non ti trovo mai devi pregare questa cosa